abbiamo il tempo di salutare e poi di preparare una bella canzone la canzone molto bella, una classica della canzone napoletana vi voglio dedicare a voi e a tutti quanti voi questa bella canzone il titolo con tanto amore però tu vai con i saluti allora io voglio salutare la poetessa Tina Piccolo ciao Tina un bacione da parte nostra un forte bacione sì da parte nostra poi voglio salutare tutta la mia famiglia va bene ai miei figli Giovanni, Antonio, a mia nuora Veronica un bacio fortissimo al mio piccolino Vincenzo Junior a mio marito che sta sempre qui con noi a Enzo che ha tanta pazienza un bacio alla mia amica Dora Buono ciao Dora anche per Dora e dopo gli devi dedicare la canzone e un bacio forte a tutti 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 gli amici sì io vi saluto già da adesso e li aspettiamo lunedì e aspettiamo lunedì sempre alla stessa ora alle 22.30 fino a mezzanotte alle 24 e poi volevo dire che noi per il 21 faremo un grandissimo evento qui a CioTV brava Mary con la presentazione mia di Mario Landi e Luciano Caldore e con la forte collaborazione di CioTV grazie a CioTV che ha collaborato con noi la signora Anna, il signor Vittorio, Alian tutti quanti voi dalla regia questa bella allora mi raccomando chi vuole partecipare può chiamare anche a CioTV ok? va benissimo allora niente ti saluto Mary ti saluto ci vediamo lunedì prossimo ciao ciao